Occitania Nel tardo medioevo, nelle terre di Occitania, ovvero quelle che vanno da Carcassonne alla lingua doca, quindi al confine con i Pirenei, fino alla Valvaraita, quindi nell'Italia più o meno nell'attuale cuneese, terre che condividono anche una lingua comune che ha dato vita proprio in quel periodo peraltro alla lingua romanza che forse in molti abbiamo studiato ai tempi delle scuole superiori riguardo alla letteratura che rappresenta un po' la nascita della letteratura medievale, si era diffusa la cosiddetta eresia catara. Secondo alcuni il catarismo è una sorta di derivazione del cristianesimo, secondo altri in realtà propugna delle verità che sono assolutamente contraddittorie con quella che è l'ortodossia cristiana. Queste sono un po' più, come dire, dispute dottrinali e teologiche che a noi poco importano. Emergenze in realtà di catari ci furono anche al di fuori di questi territori, ad esempio a Concorezzo sorse una comunità catara che venne repressa nel sangue dal podestà di Milano oltrado da Tresseno. Si dice peraltro che i catari conservino alcune verità segrete come ad esempio il graal o la discendenza di Gesù Cristo. Non è un caso ad esempio che di catari parli moltissimo lo scrittore Dan Brown. La chiesa rispose, come dire, alle richieste di autonomia o anche di semplice esistenza di queste comunità col suo proverbiale pragmatismo, ossia di fatto in numerosi casi tentando di sterminarli del tutto. E vi è un caso eclatante di quando un soldato nell'atto di avvicinarsi ad un villaggio dove convivevano cristiane e catari in maniera del tutto pacifica chiese al suo generale o comunque al capo della sua spedizione, come facciamo a questo punto a distinguerli, a distinguere appunto cristiani e catari? E la risposta di questo generale fu piuttosto emblematica e laconica, ossia voi uccideteli tutti, Dio poi riconoscerà i suoi.